Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su Ok Italia Parliamone in collaborazione con Asso Camerestero, Your Italian Hub e A Italy, oggi nuova puntata per mettere a confronto Italia e Stati Uniti su un tema specifico ma soprattutto per far emergere come diverse realtà affrontano la stessa problematica. Nostro ospite di Ok Italia Parliamone oggi per parlare di prodotti enogastronomici italiani di qualità nel mercato USA abbiamo Dino Borri, General Manager di Italy Nord America e benvenuto Borri. Buongiorno a tutti. E con me anche oramai appuntamento fisso la nostra amica, la mia compagna di viaggio in questo ciclo di approfondimenti Letizia Ayros, editor in chief di A Italy Network. Benvenuta. Buongiorno a tutti. Salve. Bene, iniziamo raccontando un pochino ai nostri ascoltatori un po' della storia di Dino Borri. Dino Borri è originario di Bra, un paese in provincia di Cuneo che ricordiamo è anche il luogo dove ha avuto origine Slow Food, il movimento fondato tanti anni fa da Carlin Petrini e Borri inizia a muovere proprio i primi passi nel mondo del food nel 2000 con Slow Food dove assume l'incarico di organizzare e coordinare gli eventi gastronomici per la organizzazione. Bene, nel 2008 inizia la collaborazione con un colosso oramai conosciuto in tutto il mondo Italy nella città di Torino e inizia a ricoprender il ruolo di responsabile dello sviluppo internazionale dei punti vendita di Italy. Dopo un periodo anche fatto all'estero, il primo periodo passa più di un anno in Giappone per curare le aperture locali, nel 2010 inizia l'avventura di Borri negli Stati Uniti d'America, si trasferisce a New York per il lancio del primo negozio americano che è stato accolto veramente da un successo clamoroso. Da allora negli Stati Uniti sono state aperte tante altre sedi, l'ultima sfida è stata a Dallas addirittura aperta pochi giorni fa in piena pandemia. Bene, in piena pandemia Covid-19 Borri questa scelta, io non so se definirla una scelta folle o coraggiosa. Le chiedo, non avete mai pensato di rimandare o evitarne l'apertura? Oppure è stata una vera e propria sfida con voi stessi quella che avete voluto fare? Naturalmente qualunque operazione di Italy è stata un po' folle a partire dall'idea del nostro fondatore Oscar Farinetti che quando ha avuto quest'idea ormai più di 15 anni fa e poi con l'apertura del 2007 era un'idea folle, era un po' antelittera e oggi è diventata una realtà dopo 13 anni consolidata. Sicuramente durante la pandemia abbiamo pensato più volte di rimandarla anche per un futuro più lontano, anche verso il 2021 invece ci siamo impegnati a voler dare un forte segnale come azienda italiana, come italianità e anche noi come persone di dare un segnale forte e di aprire qualcosa nel 2020. Ce l'abbiamo fatta, è stato molto complicato diciamo, ma penso che sia una grandissima soddisfazione. Letizia, come la vogliamo considerare? Ecco giustamente penso che in un momento in cui New York adesso è nel pieno anche nuova ondata anche per quanto riguarda New York e l'America del blocco del lockdown. Come funziona? Io so che tutto il settore della ristorazione è un pochino in ginocchio, anzi ho visto che addirittura l'ondata del grande freddo che è arrivata, completamente paralizzato anche l'attività di tutti i ristoratori che ricordiamo che negli Stati Uniti, soprattutto nello stato di New York, possono servire ai tavoli ma soltanto all'aperto e quindi insomma sono stati dei giorni di chiusura. Ma ecco in tutto questo come vi collocate voi? Avete ecco l'Italy che avete aperto anche a Dallas? Come funziona? Allora la situazione è un po' strana perché ogni Stato ha delle regole differenti. In questo momento noi siamo chiusi totalmente, la ristorazione è chiusa totalmente in California, quindi a Los Angeles, è aperta per outdoor, indoor negli altri Stati e da lunedì siamo chiusi anche indoor a New York. L'irarità in questi giorni si è presentata su Facebook e sui social media perché c'erano tutti i ristoratori che mangiavano all'aperto durante la tempesta di neve avvenuta qualche giorno fa è una situazione molto complessa e difficile soprattutto dal punto di vista umano perché moltissime persone nella catena, dai ragazzi stessi che lavorano nei ristoranti ma di conseguenza i produttori e tutta la filiera che c'è intorno ai ristoranti ne sta risentendo. Sono dei provvedimenti in parte ritengo necessari, sicuramente non è facile aprire, chiudere, chiudere e aprire. Speriamo che il 2021 ci porti delle notizie migliori anche con l'arrivo di questo vaccino. È una situazione chiaramente molto complicata che tu hai vissuto con grande responsabilità fin dall'inizio. Mi piacerebbe un pochino ripercorrere quel periodo e farti raccontare in un periodo difficile assolutamente in cui un po' tutti quanti noi che siamo qui a New York abbiamo vissuto anche, come posso dire, una sorta di déjà vu perché le notizie che arrivavano dall'Italia sembravano non essere percepite qui, quando poi invece all'improvviso la pandemia ha preso in pieno questa città. Quali sono stati i momenti più difficili? E poi hai preso, avevi chiaramente delle grosse responsabilità anche nei confronti del negozio e delle persone che ci lavoravano. Come l'hai vissuto? Eh, assato, vabbè, io spesso ho detto e continuo a dire che noi l'abbiamo vissuta quasi due volte noi da italiani perché vedevamo quello che stava capitando in Italia e venivamo visti, vi ricordate, un po' anche come gli untori del mondo. Noi come Italy abbiamo preso delle precauzioni prima degli altri, quindi mi ricordo che quando ancora non c'era lockdown qua, ma in Italia viviamo lockdown, abbiamo iniziato a prendere delle precauzioni che erano quelle di mettere tutti i ragazzi le mascherine, di ridurre il numero delle persone all'interno dei negozi, cosa che ormai è diventata normale, ma a marzo era un po' antelitteram. Quindi noi abbiamo anche scritto questo bel manifesto in cui c'erano i dieci punti per fare la spesa sicura, quindi siamo diventati anche un po' modello di sicurezza. Un po' il momento in cui noi italiani eravamo considerati in qualche modo anche un po' gli untori, che eravamo visti male, perché la pandemia la portavano gli italiani. Quindi noi abbiamo fatto un po' questa cosa, quindi di limitare il numero delle persone all'interno dei negozi, dare le mascherine, essere, diciamo, nella nostra filosofia che è quella del buono, pulito e giusto, essere il più puliti al massimo anche in termini di igiene. E questo devo dire che ci ha dato grande aiuto dal punto di vista dell'immagine, ma anche poi del ritorno. Quindi i nostri clienti hanno capito che venire da noi, pur essendo aperti, era sicuro. E' stato sicuramente difficile, perché quando tutto veniva chiuso, e vi ricordate, in New York noi eravamo la città, forse con Milano la più colpita, era veramente tutto chiuso. Io praticamente ho lavorato tutti i giorni, e andare a lavorare e vedere i ragazzi, i miei colleghi, lavorare tutti i giorni quando tutti erano a casa, è stato umanamente veramente complicato. L'abbiamo superata con grande coraggio e determinazione, devo dire che siamo oggi felici di come l'abbiamo affrontato e dei risultati che abbiamo ottenuto, perché alla fine, come dicevo prima, non abbiamo solamente aiutato i nostri dipendenti, noi stessi, ma tutta la filiera agroalimentare, perché abbiamo continuato a comprare, abbiamo continuato a vendere, da quei piccoli, medi e grandi produttori italiani, non solo, che comunque stanno e stiamo soffrendo questa crisi, che da sanitari è diventata anche economica. Diciamo che in una prima fase voi avete subito un po' quello che è successo in Italia, appena è iniziata il contagio da parte dei ristoranti cinesi, in cui si aveva paura ad andare nel ristorante cinese perché si pensava che ci si potesse contagiare soltanto toccando anche il prodotto che veniva di lì. Immagino che questo sia stato anche per voi. Ma la cosa che chiede, ecco, avete avuto grandi difficoltà, raccontavi che c'è stato un problema reale anche per i tanti dipendenti. Mi interessa sapere, ecco, avete avuto degli aiuti da parte delle istituzioni per poter far fronte a questo momento di contrazione anche del mercato e in che modo hai potuto aiutare anche gli stessi impiegati, perché sappiamo che date occupazione a tantissima gente. Beh, naturalmente quello che noi abbiamo fatto, noi abbiamo tenuto il più possibile i nostri ragazzi impegnati, quindi anche trovando delle alternative alle loro posizioni. Quindi noi da mix tra ristorante e retail ci siamo trasformati con i ristoranti chiusi in un puro retail e quindi molti di quei ragazzi che magari prima facciano i cameriero e cuochi sono diventati banconisti e quant'altro. Quindi questa è stata una cosa. Poi sicuramente l'America ha fatto un programma di aiuto per le piccole, medie e grandi aziende nella quale noi abbiamo partecipato a questa cosa e in più noi come Italy abbiamo fatto anche dei programmi specifici interni per poter dare a quelle persone che in qualche modo lavoravano di meno. Voi sapete che ad esempio il mondo della ristorazione in parte vive di tip, cioè quindi della mancia che se non ci sono clienti, cioè la parte di Italy, noi ce la siamo sobbarcata, abbiamo fatto dei programmi quello di dare un tot per poter fare la spesa, quindi di dare un minimo di questo. Naturalmente anche l'America ha fatto tutto il programma dell'unemployment e dello stimulation check che sicuramente ha aiutato nella prima fase alle persone che hanno eventualmente perso il lavoro ma devo dire che da noi alla fine essendo sempre ristati aperti abbiamo avuto un po' meno problemi da quel punto di vista perché non abbiamo avuto un 100% di chiusura. Naturalmente la difficoltà è quella poi di riaprire e chiudere. Abbiamo, diciamo, che penso che siamo stati molto avanguardistici anche da questo punto di vista. Senti, New York ha vissuto anche dei momenti, come molte altre città negli Stati Uniti, di disordini, di tipo a livello sociale. Come li hai vissuti tu o come hai vissuto questo periodo? E molti hanno parlato anche di una New York morta, di una New York in una fase, diciamo, di finale. Cosa pensi tu? So che ami molto New York e quindi chiaramente conosco già la tua risposta. Vole che arriva di... No, penso che più che New York morta qualunque città del mondo stia vivendo un cambiamento e una quotidianità diversa. Un mondo senza turisti è un mondo molto strano. Quindi vedere New York, io vedevo New York, ho visto delle cose in New York che non avevo mai visto prima perché si poteva camminare, non c'era traffico e quant'altro. Mi è capitato anche per motivi personali di essere in altre città durante la pandemia e ho visto delle città svuotate tanto quanto se non più di New York. Poi dipende che parte di New York. Io abito in una parte dove ci sono molti residenti e sicuramente l'estate o il periodo non era così diverso. Dal punto di vista invece degli scontri è stato molto intenso perché c'è stata un'escalation soprattutto, se vuoi, chiamiamola di tipo raziale per quello che è successo a George Floyd che sicuramente ha coinvolto in un momento in cui c'era già molta ansia la polveriera esplosa. Sicuramente mi ha fatto riflettere molto perché io poi ho una situazione anche familiare di una famiglia, diciamo, mista che mi ha coinvolto, se vuoi, per il futuro personalmente. Penso che qualunque rivoluzione o protesta o quant'altro se viene fatta in maniera civile può avere un riscontro positivo per il futuro. Ecco, Dino, Italy è famosa nel mondo per la qualità dei suoi prodotti enogastronomici ma non solo, è famosa soprattutto per la capacità di raccontare la storia dei produttori quello che c'è dietro ogni singolo prodotto che si può trovare all'interno dei vostri scaffali. Quanto è importante anche per il mercato americano riuscire a raccontare il territorio dove viene prodotto determinato bene e anche la famiglia, coloro che materialmente realizzano quel prodotto? E posso aggiungere anche l'artigianità e soprattutto la sostenibilità ambientale dei prodotti perché chiedo che in questo momento... Eh beh, certo. Devo dire che questo famoso storytelling ormai si dice storytelling o raccontare cosa c'è dietro è fondamentale per raccontare qualunque prodotto sicuramente nel mondo agroalimentare le storie sono affascinanti ce ne sono migliaia la cosa bella di Italy e dell'Italia è che ogni 5 km c'è una realtà diversa io dico sempre che non è una realtà migliore o peggiore di un'altra è solo diversa la biodiversità italiana nel campo agroalimentare è unica al mondo Italy ce l'ha fatta raccontarla e mi piace dire lo dicevo anche per Dallas noi a Dallas siamo in un centro commerciale che se vuoi è la cosa più moderna come concetto che ci sia ma che è quasi una galleria perché i proprietari hanno questa collezione privata di arte incredibile io spesso dico che Italy è quasi come una galleria dove i produttori di cibo sono gli artisti i prodotti sono delle opere d'arte e noi oltre a vendere vogliamo raccontare raccontare la storia dei prodotti e dei produttori noi non facciamo come Italy nessun private label vuol dire che tutto quello che tu compri sai da dove arriva quindi la territorialità la differenza è fondamentale per vendere e vendere meglio ma non per vendere ma per essere essere veramente unici e non mentire su quello che si va a vendere vorrei raccontare qualcosa anch'io vorrei raccontare l'apertura del vostro negozio e c'ero ma è quello di Dallas e le tizze di Dallas o di New York? no no io sto parlando di New York però poi arriverò a Dallas e voglio raccontare questi grandi pannelli che non contenevano slogan almeno qualche slogan fosse c'era ma contenivano il racconto del nostro paese e gli americani lo stupore degli americani nel vedere scritto in maniera chiara semplice anche accattivante che cos'era il prodotto dove veniva da quale città e era la prima volta che succedeva in questo modo e quindi io lo ricordo ne diciamo con adesso insomma voglio dire con il senno di poi e mi chiedo allora questa cosa chiaramente sta succedendo anche a Dallas in New York è molto diversa da Dallas ovviamente gli americani a New York conoscono molto di più il nostro paese lì come sta andando come va questo racconto ah beh devo dire che questa è stata la parte se vuoi geniale dell'idea di Oscar Farinetti che era quello di Eat, Shop, Learn cioè la parte della scuola dell'educazione alimentare è fondamentale lui stesso fu quello che scrisse i primi cartelli a Torino poi anche a New York con un traduttore di fianco perché l'abbiamo sempre avuto e li continuava a avere in due lingue quella italiana e in inglese devo dirti che in ogni paese ogni città dove andiamo c'è anche un approccio diverso più ci spostiamo verso il Midwest o verso il centro degli Stati Uniti c'è una cultura gastronomica italiana molto se vuoi molto meno rispetto a quella di New York dove comunque l'italianità è molto presente devo dire che c'è molta curiosità c'è molta internazionalizzazione quindi ho visto a Dallas anche clienti che già ci conoscevano che conoscevano l'Italia e ci hanno detto grazie che siete arrivati perché prima non potevamo accedere a questi prodotti molto interessati ci chiedevano appunto quando inizieremo a fare le classi a leggere i cartelli e a capire qual è la differenza tra un olio extravergine e vergine anche se noi vendiamo solo quello extravergine tra un aceto balsamico tradizionale e un condimento balsamico o tra un prodotto a latte crudo verso un latte pastorizzato così come i vini quindi questa è la cosa bella del nostro mestiere che è non solo quello di come dicevo prima di vendere qualcosa ma di raccontare cosa c'è dietro ed è anche il vostro punto di forza non solo la cosa bella fa la differenza e poi sai i nostri produttori vi racconto questo piccolo anello che molti dei nostri produttori che sono alcuni sono veramente molto piccoli il fatto di essere arrivati a New York o a Dallas o a Los Angeles per loro è un po' quasi come vincere un Oscar cioè vedere lo sforzo di una vita quindi questi produttori che magari fanno qualche milione di fatturato che per l'America fare un milione di euro di fatturato sei non un artigiano sei veramente nulla essere sugli scaffali di Dallas o di New York è veramente il raggiungimento di un obiettivo di vita ecco io vorrei concludere questa chiacchierata sarebbe bello continuarla veramente per ora perché è estremamente interessante il tuo racconto però tu vivi oramai a New York da oltre vent'anni abbiamo detto prima dieci 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 anni giusto dal 2010 dal 2010 che sei lì bene sicuramente questa pandemia speriamo più presto possibile la lasceremo alle spalle sarà soltanto un brutto ricordo del passato e come vedi il futuro a New York ma soprattutto da un punto di vista di possibilità futura per quanti italiani per quanto Made in Italy ancora vuole venire a insediarsi negli Stati Uniti io penso sempre che il futuro sarà positivo e bellissimo perché lo dobbiamo scrivere noi credo che dalle crisi possano nascere sempre grandi opportunità l'italianità è ancora oggi vista come la numero uno cioè io continuo ad avere amici clienti americani che mi dicono non vedo l'ora di poter tornare in Italia grazie che ci siete stati voi quindi ritengo che ci sia grande opportunità dal punto di vista economico perché comunque prima era diventata una città forse quasi improponibile dal punto di vista di affitti di acquisto di costi forse con la pandemia si è arrivata ad avere una situazione un pochino più realistica naturalmente il mondo è diventato sempre più internazionale New York l'ho sempre vista come una città quasi italiana perché se non ricordo male è la sesta o settima città italiana al mondo fuori dall'Italia quindi grande positività naturalmente con un occhio nuovo e innovativo perché non siamo più l'Italia o l'America del dopoguerra quindi solamente che si arriva con la valigia di cartone ma con un'Italia nuova moderna e efficiente benissimo allora ringraziamo Letizia ringraziamo il nostro ospite per averci accompagnato ci ha fatto venire anche il desiderio di riandare immediatamente ad assaggiare le tante prelibatezze perché poi ricordiamo che alcune prelibatezze le si trova soltanto all'interno di queste realtà perché voglio dire è come se fosse uno scrigno all'interno del quale ci sono tutti i tesori nascosti delle tipicità anche regionali italiane e quindi voglio dire è un luogo secondo me da preservare come simbolo e come forse ambasciatore anche dell'italianità nel mondo come la pensi? Sicuramente sì ambasciatore molto di più di ambasciatore insomma voglio dire chi vive a New York lo sa lo sa benissimo insomma immagino anche nelle altre città degli Stati Uniti dove sono diventati un vero punto di riferimento insomma ripeto soprattutto per quel racconto per quell'italianità atmosfera e cultura italiana che basta andarci per capirlo insomma e così si entra in Italia e beh il cibo è cultura insieme dobbiamo fare cultura benissimo allora grazie ancora Dino Borri per essere stato con noi grazie a voi torneremo sicuramente a collegarci con te grazie anche a Letizia ai nostri ascoltatori per il prossimo approfondimento sempre dagli Stati Uniti d'America grazie a te grazie a breve grazie a te grazie a te grazie a te